30. Controparte astrale Che cos'è la controparte astrale? Commento Quando si parla di piano astrale non si deve pensare ad una sorta di pianeta fluidico in cui la vita si svolge con le stesse caratteristiche in ogni luogo. 31. Anche il piano astrale consta di stati di coscienza che variano da un luogo ad un altro, con notevoli differenze. 32. Lo stesso avviene nelle grandi città del piano fisico in cui, oltre ai quartieri signorili, sono presenti quartieri popolari o addirittura malfamati dove prospera la malavita. 33. Il cosiddetto basso astrale, o come chiamato dagli Hindu Kamaloka, è una suddivisione evolutiva che comprende lo stato di coscienza chiamato purgatorio dalla nostra religione. 34. È un vasto quartiere astrale che si può immaginare delimitato verso l'alto dalla controparte astrale superiore del piano fisico e verso il basso dalla controparte astrale inferiore del piano fisico, chiamata dalla nostra religione inferno. 34. A presto.